Tema che andrà ad affrontare tra poco, destra, sinistra, dirigismi, a me viene in mente una parola Trump, si fa un gran parlare di troppa destra quando si guarda Trump, le manifestazioni contro di lui, posso chiedere un giudizio? Trump è un uomo anzitutto che dobbiamo vederlo in azione, sinora ha fatto una campagna elettorale, lei sa che le campagne elettorali si dicono delle cose che poi non si faranno quando si viene eletto e se si dicessero le cose che si faranno quando sarei eletto non viene eletto. Allora detto questo Trump è un uomo che cambia la geografia del potere nel mondo, non c'entra più destra, sinistra eccetera, io guardo agli effetti, ad esempio nel caso della Nato, dice la Nato costa troppo quindi io mi disimpegno, ma questa richiesta avrebbe dovuto farla l'Europa vent'anni fa, non un americano all'Europa adesso, la Nato è stato un organismo straordinario che ci ha protetto dal diventare comunisti, senza la Nato l'URSS di Stalin e amici vari ci avrebbe conquistato, quindi questo è un risultato straordinario. Adesso in che situazione ci troviamo? Con il crollo del muro di Berlino e l'implosione dell'Unione Sovietica non c'è più il pericolo russo, perché non c'è il pericolo russo? Sa qual è il prodotto interno lordo della Russia adesso? È pari a quello dell'Italia, secondo te l'America ha paura, lei l'America ha paura dell'Italia? No. Allora quindi questo è il pericolo russo, viene ingigantito dagli americani in forza dei quali fanno un golpe ad esempio in Ucraina, siccome alla Russia non può star bene un colpo in Ucraina, poi dopo se la prendono con la Russia. La Nato ha fatto un'altra guerra immotivata contro la Libia che poi ci crea i barconi adesso a noi, ma l'articolo quinto della Nato dice che la Nato interviene militarmente in maniera automatica nel caso che uno dei paesi della Nato sia stato aggredito da un paese terzo. Lei ha notizia dell'aggressione di Gheddafi di confronti dell'Europa o no? O dell'America? Non c'è stata, ma la guerra l'ha fatta lo stesso. Quindi allora la Nato oggi è uno strumento militare di dominio dell'America sull'Europa e da questo punto di vista Trump è un ingenuo perché si toglie un elemento di azione, ma noi europei abbiamo delle colpe straordinarie a questo riguardo. Abbiamo dei singoli eserciti, fra di loro non coordinati, concepiti come se dovessero affrontare una guerra infra-europea e per questa struttura paghiamo il 72% delle spese della Nato. Evidentemente siamo molto in ritardo e questo è preoccupante. Il pericolo non è la Russia, sono gli islamismi, sono tutte le cose che stiamo vivendo in questi giorni.